Io sono il salutatore e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan, ecco qua il salutatore ufficio. Un saluto al salutatore e a tutti voi, un bacione grande, ciao. Sei un grande, ti sei militato di vincere Ice Factor e una sorpresa prego, per te, la manina del salutatore. Grande, grazie a tutti. Ciao, grazie a te, grande, ciao Lorenzo.